35.000 abitazioni del comune di Alessandria saranno raggiunte dalla fibra entro il 2019 su un'infrastratura costruita da open fiber. Abbiamo il sindaco della città, Gianfranco Cuttica di Revigliasco che festeggia nello stesso anno gli 850 anni. Ecco quindi si diceva dalla paglia, città della paglia era Alessandria 850 anni fa alla fibra. Dalla paglia alla fibra è un'ottima soluzione verbale ma che sintetizza una verità 850, compleanno della città, è l'occasione da una parte per una riflessione sul passato ma è anche l'anno in cui si volta pagina, si guarda il futuro, si guarda lo sviluppo economico, si guarda le capacità comunicative anche attraverso i sistemi e le reti più moderne e più opportune. Ai cittadini di Alessandria quindi viene richiesto a questo punto uno sforzo anche di informarsi su qual è questa opportunità della fibra, di avere la fibra nella propria casa. Certamente sì, io credo che però questi elementi abbiano una potenzialità tale di comunicazione già di per sé che la cui utilità verrà immediatamente recepita dagli abitanti e da tutti coloro che comunque operano in Alessandria. Voi dobbiamo pensare anche che benefici e che ricaduta ci sia sul campo aziendale, sul campo produttivo, sul campo della comunicazione. Quindi Alessandria attraverso questa operazione con Open Fiber guarda al futuro, guarda al mondo e si inserisce in un percorso internazionale. La fibra ottica con velocità, queste sono promesse, fino a un gigabyte, innanzitutto come volete garantire questa velocità? Allora la garanzia della velocità è data dalla tecnologia che portiamo noi come tecnologia abilitante. Dopodiché è chiaro che il singolo cliente può scegliere sia il suo operatore preferito, sia eventuali profili diversi di servizio dell'operatore. Però la tecnologia di base è abilitante anche a queste velocità. Quindi un chiarimento ai cittadini, Open Fiber costruisce l'infrastruttura, poi saranno operatori di servizio a gestire tutto quello che è i contratti di abbonamento con i vari utenti. È stato precisissimo, proprio perché la nostra caratteristica è essere un operatore wholesale, come si dice in gergo, quindi all'ingrosso. Noi abbiamo come clienti diretti nostri gli operatori, che a loro volta vedono i clienti finali con le loro proposte di servizio. Ovviamente in questi casi si fa spesso riferimento ai vantaggi che porta la fibra ottica nelle case, ma ci sono anche i possibili disagi. In questo c'è un accordo, anche un impegno con l'amministrazione comunale di Alessandra e a questo punto con i cittadini per ridurli al minimo? Diciamo che la fase di costruzione qualche disagio lo porta, è inevitabile. L'impegno nostro, diciamo così, anche confortato da una certa esperienza, è che riusciamo a minimizzare questi disagi qua, con la collaborazione stretta con l'amministrazione, quando entriamo nei condomini la collaborazione con l'amministrazione del condominio, quindi con gli amministratori, è importantissima. In questo senso, diciamo, gli eventuali disagi sono molto circoscritti nel tempo, dopodiché resta solo la possibilità di utilizzare i servizi. Grazie.